Benvenuti a tutte e tutti, sia a tutti quelli che sono presenti qui al Dipartimento di Filologia e Critica delle Lettrature Antiche e Moderne a Siena, sia ai non pochissimi che sono collegati da casa o che ci stanno guardando sulla diretta YouTube. Benvenuti a tutti. Il nostro incontro di oggi approfitta della presenza come visiting professor presso il nostro Dipartimento di Franco Moretti che rimane con noi due settimane e fa tutta una serie di attività. Franco Moretti risparmiatemi la presentazione che sarebbe veramente molto lunga se dovessi enunciarvi il suo curriculum, diremo soltanto perché bisogna sempre dirlo, che in questo momento è Permanent Fellow al Wissenschaft colleague di Berlino. Come l'ho detto? Ha detto benissimo, meno male. Delle varie attività che Franco svolge qui da noi in queste settimane in cui è visiting professor, sono inclusi due incontri che appunto sono pubblici, riservati agli studenti e ai dottorandi dell'Università di Siena, questo è il primo dei due, ed è una conversazione che trae spunto da questo volume pubblicato nella collana Extrema Razio di Notte e Tempo, Eric Auerbach, letteratura mondiale e metodo, con un saggio di Guido Mazzoni. È un volume in cui, come accade in altri di questa collana, Guido Mazzoni si interroga sull'attualità di Auerbach e prova a scommettere su una certa attualità di Auerbach. Un dato che non è scontato, che Guido argomenta all'interno della sua lunga introduzione, che cerca di dimostrare, di sostenere con la scelta di saggi, ma su cui il dibattito non solo può esserci, ma in un certo senso noi pensiamo che debba esserci. E allora è proprio questo che faremo quest'oggi, una sorta di processo alla modernità di Auerbach, per intenderci. Sentiamo prima che cosa ne pensa Franco Moretti, dopodiché a colloquio con Franco ci sono Guido Mazzoni stesso, che sulla, diciamo, suppongo che sarà per la modernità, la contemporaneità e l'utilità di Auerbach, se no non si sarebbe imbarcato in questa impresa, e Riccardo Castellana, anche lui collega del Dipartimento di Filologia e Critica, ascolteremo anche la sua opinione su Riccardo. Ho qualche idea, ma non sono sicura, anche io lo scoprirò. Per cui buon ascolto a tutti e poi ovviamente speriamo in un dibattito ampio e partecipato. Allora, grazie mille. Io sono, sì, responsabile, credo, di quel avversativo, di quel contro nella locandina del manifesto, nel titolo di questo incontro, perché ha ragione Simona, cioè è uscito questo libro, molto bello, con una bellissima introduzione di Guido Mazzoni. Dico solo due punti di questa introduzione che a me sono piaciuti particolarmente, quando lui, diciamo così, identifica la filosofia e la storia di Mimesis con questa direzione cristiano-democratica. Il cristiano era nelle cose, lo dice Auerbach stesso. Democratico è un termine che io mi chiedo se compaia mai in Mimesis, o comunque sicuramente non è uno dei termini che resta nella vostra testa. Quindi è una torsione di quello che qualsiasi direttore troverebbe in una direzione, secondo me, assolutamente azzeccata e nuova. E poi, visto che Mimesis vive naturalmente di confronti, il suo identificare lo specifico tipo di confronto che interessa ad Auerbach e che Auerbach effettua, come un confronto tra campi di possibilità. Cioè le epoche non sono dei bassorilievi in un tempio scolpito una volta per tutte, sono dei campi di scelte possibili. Però non tutte le scelte sono possibili, per l'appunto. Cioè un campo di possibilità ha una gamma di scelte, 20, che sono diverse da un altro campo possibile. E questo dà al ragionamento storico, sicuramente all'interpretazione del ragionamento storico che dà guido, tutta un'altra flessibilità. Allora, perché quel contro? Comincio con due piccoli, diciamo, neanche aneddoti, ma insomma, momenti che attengono la mia biografia. Io ho un figlio che tre mesi fa è partito per andare a studiare, è andato a studiare in una di queste università dove si fanno nel primo anno un corso interminabile che dura due semestri con quattro ore di seminario a settimana, questi corsi dei grandi libri. Si parte letteralmente da Omero e si finisce, fino a qualche anno fa si finiva con Virginia Woolf, adesso si finisce con Tony Morrison. E, vabbè, io cerco di usare buonsenso, con mio figlio per cui non gli consiglio libri di critica e cose del genere, gli ho detto, guarda, e questo del resto è un seminario, testi, 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 niente critica. Gli ho detto, guarda, se c'è un libro che ti va di leggere a un certo punto, l'unico libro all'altezza di questi corsi, in parte perché questi corsi sono stati modellati su quel libro, è Mimesis di Auerbach. Quindi il mio contro non è un contro, come dire, da orco. Il problema è se un libro che uno si sente di consigliare a un ragazzo di 18 anni è anche il libro giusto da consigliare a leggere a uno che di anni ce n'ha 22, 30, 60 e così via. Se è un libro che, diciamo, la cui utilità si ferma a una certa tasca. Secondo piccola caratterizzazione personale, io ho fatto l'università dal 1968 al 1972 questo è stato un periodo in cui in Italia io ho studiato a Roma, ma a Roma non più che altrove si discuteva in continuazione, non solo di politica, ma per chi studiava letteratura pure di metodologie critiche. Bene, ho cercato davvero di andare a fondo in tutto ciò che ricordo dell'epoca, anche qualche quaderno d'appunti e così via. Auerbach praticamente era inesistente. Inesistente. Ma non solo in me. Sono riandato con ricordo a tutti i professori, ma anche gli studenti di cui ero amico, con cui discutevo, e ripeto, uscivano libri in continuazione, si leggeva tantissimo. perché, secondo me, perché all'epoca, nel bene come nel male, c'erano due grossi schieramenti, si poteva appartenere anche ad entrambi, ma insomma erano chiaramente distinti, uno di varie forme di critica marxista, varie perché ce n'erano parecchie, e un altro di varie forme di critica formalista, strutturalista. Ora, perché Auerbach rimase ai margini di quel momento, secondo me? Perché in entrambi i casi queste due scuole critiche volevano proporre dei modelli molto forti di ciò che la critica letteraria, la storiografia letteraria, la teoria letteraria, potesse e dovesse fare. Auerbach non offriva questi modelli forti. Ecco, e allora, a proposito della sua attualità, della sua crescente, con una certa sorpresa, che poi Auerbach, all'epoca devo aver letto qualche capitolo di Mimesis, poi negli anni ne ho letti altri, ho letto dei saggi, naturalmente, eccetera, eccetera, e spesso non ho mai davvero studiato, in questo il mio, sì, aver suggerito quel contro è stato un po' avventato, visto che le due persone che siedono alla mia sinistra, viceversa, l'hanno entrambi studiato molto a fondo. Insomma, pazienza, ormai la cosa l'ho fatta. Non l'ho mai davvero studiato, l'ho letto, a tratti, ho pure usato alcuni dei suoi risultati, mi sono col tempo convinto che forse la sua fortuna crescente, è una strana cosa, di solito i libri hanno una fortuna iniziale, poi declinano, e poi insomma, mentre invece Auerbach è come se avesse avuto una curva verso il basso, e poi una curva di risalita che continua fino ai nostri giorni. forse, forse, e qui lo dico con un pizzico di cinismo, voi capite, perché offre rispetto a quella storiografia marxista molto, e alla critica formalista altrettanto, diciamo, radicale nella sua modellizzazione, Auerbach offre una storia un po' più light della storia della storiografia marxista, e un'analisi stilistica anch'essa un po' più light di quella del formalismo e dello strutturalismo. Cioè, è un testo ideale, soprattutto Mimesis, per un'epoca, per dei decenni, forse l'epoca è troppo grande, ma per dei decenni che hanno visto, come dire, affievolirsi l'interesse per le scommesse teoriche grosse. Questo, diciamo, come cornice. Ora, più nello specifico vorrei dire quattro cose, sono quattro punti, due su Mimesis e due su uno dei saggi, il saggio sulla letteratura mondiale, incluso nel libro curato da Guido. Mimesis è un libro che ci dà tantissimi, spesso ottimi, risultati, ma non ci offre dei concetti o dei metodi con cui arrivare a nostra volta a quei risultati. Questa è la, l'impressione che, rinnovata, nel corso degli, appunto, è un libro che, di cui ho letto, pezzi, nell'arco di 50 anni, forse non passano due o tre anni senza che ne rilegga qualche parte. E ogni volta il risultato dell'analisi di Auerbach mi sembra interessante. Come lui ci sia arrivato mi è abbastanza oscuro. Come ciò sia replicabile. in questo io lo trovo molto diverso e per me meno interessante, meno, questo naturalmente che lui arrivi a degli ottimi risultati pur senza esplicitare un metodo, questo dimostra che è un critico di straordinario talento, ma questo nessuno ne dubita di questo fatto. È il modo in cui il talento viene usato e in cui noi possiamo usare ciò che lui ha fatto che è in discussione. è come se lui ecco per tornare a un'espressione negli anni settante adesso non ricordo forse forse la disse Todoro forse la disse Jonathan Caller forse la dissero tutte e due e tante altre persone di cosa abbiamo veramente bisogno nello studio della letteratura di questi tempi noi? Di interpretazioni o di grammatica? La loro risposta era di grammatica cioè delle specie di ipotesi sulle leggi che rendono possibile l'interpretazione e che quindi ti permettono di capire non solo un certo testo ma tutti i testi di quel tipo lì che rispondono più o meno alle stesse regole grammaticali. Mimesis ci dà tante interpretazioni e nessuna grammatica pare a me. in questo è molto diverso da un critico vicino forse il più vicino che esista ad Auerbach cioè Spitzer il quale viceversa ha sempre avuto quello che ai miei occhi è il merito di rendere esplicito il suo metodo critico il circolo ermeneutico è un approccio ai testi che Spitzer segue che poi non origina in Spitzer ma insomma lui utilizza e riorganizza i fini dell'interpretazione con cui io personalmente non sono d'accordo ma è molto chiaro come funziona è molto chiaro quali sono le forze le debolezze eccetera eccetera e io questo non lo trovo ma pensate per dire proprio un esempio che a me sembra tutti i capitoli di Mimesis iniziano con una citazione come possiamo definire quella citazione Auerbach stesso non ha mai come dire un termine per dire che cos'è quella cosa lì versi brano episodio dialogo scambio capitolo è in un certo senso la base di tutta l'impresa perché Mimesis non esisterebbe senza quelle citazioni che aprono i suoi capitoli eppure non è mai detto esattamente che cos'è naturalmente altri critici e studiosi l'hanno chiamato chi dettaglio chi questo che è Auerbach stesso è silente sulla faccenda secondo punto che riguarda Mimesis il capitolo si apre con una citazione Auerbach interpreta in modo spesso memorabile queste citazioni dopodiché da questa citazione emerge anche per lui non solo il senso di quel brano di quel dialogo di quell'episodio ma del testo nella sua interezza cioè per lui il brano scelto e il testo nel suo insieme fondamentalmente coincidono qui ci torniamo ci torno tra un secondo la metafora cognitiva dell'irradiamento che lui usa altrove forse da qualche parte anche in Mimesis cioè di questa unità tra il tutto e la parte ora tranne casi estremamente limitati ma avrei difficoltà a dire quando io penso che questa c'è un'ipotesi dietro questo appunto che il senso del testo nel suo insieme possa essere trovato nel dettaglio questa ipotesi io mi sento di dire che è sbagliata un testo è sempre fatto di un insieme di elementi diversi e spesso molto diversi spesso in conflitto fra loro e via dicendo che si possa arrivare al senso del tutto partendo solo da una parte mi sembra proprio un punto di partenza implausibile tanto più se pensate che penso soprattutto alla parte di Mimesis che poi io conosco meglio perché è quella che si riferisce a dei testi che ho studiato di più cioè il romanzo ottocentesco fondamentalmente Auerbach ricostruisce il senso di un romanzo su base stilistica trascurando del tutto o quasi l'intreccio del romanzo stesso ora stile e intreccio sono due sistemi che possono avvicinarsi in molti che possono ma sono due sistemi che non potrebbero essere più diversi in un'opera letteraria esautorarne uno in base alla forza dell'altro di nuovo a me sembra veramente un errore metodologico da non compiere saggio sulla letteratura mondiale qui Guido stesso a un certo punto dice il mondo di Auerbach non è più il nostro per molte ragioni e quindi anche la letteratura mondiale di Auerbach non è più la nostra per per molte ragioni è veramente cambiata in questo sono descrittivo Auerbach non ha nessuna responsabilità uno che scriveva negli anni 40 non solo con la formazione sua come dire è chiaro che non poteva pensare alla letteratura mondiale come ci pensiamo noi ora però noi ora viviamo e ora dobbiamo pensare alla letteratura mondiale e in questo il saggio di Auerbach secondo me non ci aiuta più per niente forse questo è un argomento da rimandare quando per fare un po' di pubblicità a questa collana extrema razio l'anno venturo uscirà il libro uscirà grazie soprattutto per merito di Guido che ha insistito il libro di Pascal Casanova la Repubblica Mondiale de Lettre che è appunto il testo fondamentale per il ripensamento sulla letteratura mondiale ai nostri giorni allora lì forse varrà la pena di ritornare sulla faccenda com'era il mondo letterario di Auerbach com'è il mondo letterario cui dobbiamo rivolgerci noi adesso c'è ancora un ponte di recente questo non so quanti di voi l'abbiano percepito questo saggio sulla Weltliteratur di Auerbach è tornato spesso negli scritti di Carlo Ginzburg che lo elegge a modello e che legge a modello soprattutto per due ragioni la prima delle quali è la diagnosi di Auerbach sulla crescente omogeneizzazione della letteratura già che lui vede già negli anni 40 50 primi 50 quando quel saggio esce questo naturalmente è vero però se si vuole un ragionamento sulla omogeneizzazione della cultura mondiale scritto negli anni 40 beh il terzo capitolo della dialettica dell'illuminismo di Orkheimer e Adorno è una cosa ma infinitamente più ricca più profonda più anche più polemica di qualsiasi di quello che ci viene offerto in questo saggio sulla Weltliteratur quindi ripeto per quello che riguarda la varietà della letteratura mondiale io non credo e credo che forse nessuno a quell'epoca fosse in grado di andare in modo serio oltre Auerbach per quello che riguarda quest'altro aspetto che è dell'omogeneizzazione della scena culturale mondiale questo viceversa si poteva fare e è stato fatto e allora se si vuole elogiare questo aspetto qui è da un'altra parte che ci si dovrebbe rivolgere punto final scusate io mi rendo cioè sembro veramente un procuratore qui d'altra parte la polemica ha una sua logica cioè una volta che ti metti in moto e quello lì è una catena di argomentazioni spero almeno che siano obiezioni abbastanza sensate da dar luogo a una discussione a una discussione interessante ecco l'ultima ha a che vedere con l'altro aspetto citato discusso anche da Guido significativo di questo saggio sulla letteratura mondiale che questa metafora cognitiva del ansatzpunkt punto di appoggio punto di entrata punto di appiglio e qui il ragionamento di Auerbach è interessante lui è interessato alle opere di grande sintesi in esiste sicuramente un'opera di grande sintesi ma come si fa a fare la grande sintesi nei tempi moderni in tempi cioè di enorme specializzazione una vita è troppo breve lo dice lui stesso a un certo punto per poter sperare di avere competenze ugualmente valide in tanti campi diversi come si fa allora a tentare un'opera di sintesi si deve cercare di trovare un punto di entrata di appiglio come un un qualcosa che ci permetta di avviarci nell'impresa ma che cos'è questo qualcosa qui voi ne saprete sicuramente più di me perché poi è un concetto che torna anche in altri testi di Auerbach io lo controllo solo in in piccola parte a me sembra che Auerbach in certi momenti sia come dire indeciso o forse agnostico questo punto d'entrata può essere un fenomeno reale la sopravvivenza dell'insegnamento della retorica nelle scuole come punto d'entrata fenomeno storico reale che è il punto d'entrata per il librone di cursius sul medioevo latino oppure può essere un'ipotesi cioè può essere un che di ontologico e di epistemologico fenomeno reale o un'ipotesi però quando poi lui comincia a parlare di comincia a offrire esempi sono sempre esempi a me sembra di fenomeni reali su questo non c'è assolutamente nulla di male e per tornare perché anche Ginzburg spesso richiama Lanzasburg non c'è assolutamente nulla di male e l'opera appunto non di un critico letterario ma di uno storico come Ginzburg è un ottimo esempio delle capacità che partire da dei dati reali circoscritti molto concreti questo è quello che Arba deve essere circoscritto molto concreto tangibile e così via quanto lontano si può arrivare con un punto di portazione è un procedimento fortissimamente intuitivo allora si tratta solo di capire i due prezzi che questo ha il primo è che un processo intuitivo va benissimo ma è il contrario di un processo che procede per ipotesi cioè non puoi averla in entrambe le direzioni o parti da un'intuizione di un qualcosa di reale che ti suggerisce delle associazioni o parti da delle ipotesi concettuali che fanno parte di un'architettura io non dico che una cosa sia meglio dell'altra per quello che mi riguarda ne ho scelta una perché penso che sia meglio ma non è questo il punto il punto è che c'è un prezzo da pagare in entrambi i casi e che spesso il ragionamento che parte dalle ipotesi è come dire è spesso e questo naturalmente lo dico autocriticamente può essere spesso sordo piatto quanto ai risultati viceversa il ragionamento intuitivo può essere estremamente suggestivo quanto ai dati e estremamente un po' fumoso quanto all'architettura concettuale si tratta di capire come dire quale prezzo si ritiene di dover pagare o quale sia l'ambizione maggiore che la conoscenza della letteratura dovrebbe avere l'ultimo il secondo prezzo problema di questa cosa è l'ansatzpunk ci riporta a mimesis il fenomeno che Auerbach predilige deve essere non solo ben delimitato circoscritto concreto visibile tangibile eccetera eccetera deve avere un potere di irradiazione ecco irradiazione è un'altra metafora cognitiva le metafore cognitive vanno benissimo sono senza metafore cognitive non impareremo mai niente perché sono l'unica cosa che abbiamo quando entriamo in un territorio sconosciuto però le metafore cognitive vanno prese sul serio proprio perché sono il primo passo e decido la nostra direzione questa metafora dell'irradiazione di nuovo torna all'idea che il dettaglio e il tutto siano al fondo non dico la stessa cosa ma siano proprio della stessa pasta e si possa andare facilmente dall'uno all'altro questa è un'idea appunto del testo letterario ma forse di tutto ciò che esiste che a me sembra indebitamente semplificatrice e con questo punto finisco la mia requisitoria e passo la parola a voi allora il pubblico sembra molto convinto da questa requisitoria quindi vediamo se i nostri avvocati della difesa riusciranno avranno sicuramente degli argomenti cominciamo da Riccardo Castellana che di fatto è l'autore di la teoria letteraria di Eric Auerbach con introduzione a Mimesis 2013 quindi sicuramente si è ben preparato per la sì mi sentite dunque sì mi sono mi sono preparato ma non alle obiezioni di oggi quindi lasciatemi prima dire dire qualcosa anche sul modo in cui io ho letto Auerbach poi ovviamente non intendo eludere le provocazioni molto intelligenti di Franco Moretti ma ci arrivo ci arrivo per gradi intanto io non riesco ovviamente neanche un po' essere contro Auerbach neanche aggiungendo un punto interrogativo alla fine della frase questo lo voglio dire subito non è che non ne veda i limiti li vedo come tutti però sono limiti storici sono limiti dovuti alla formazione alla cultura di un uomo di una persona vissuta in una certa epoca in un certo orizzonte culturale sono limiti secondo me anche tutto sommato modesti se paragonati a quelli di altri grandi critici del novecento come Benjamin come Lukacs come Bakhtin come Fry che secondo me sono invecchiati meno bene però questa è una mia opinione personale io non sono contro Auerbach per un motivo ben preciso perché Auerbach ti propone un paradigma di senso però non ti obbliga a un atto di fede e per me Mimesi sei il capolavoro assoluto della storia letterale del novecento perché ti offre una visione unitaria della storia letteraria però non ti chiede di fidarti ciecamente di quella visione di accettare fideisticamente quella visione e ti dà invece gli strumenti per verificare quell'ipotesi di senso possiamo ragionare la domanda di Moretti è giusta quanto siano efficaci questi strumenti però te li dà ora siccome le due cose insieme cioè la proposta di un senso di un paradigma di senso di un'unità di senso e il fatto di non chiedere un atto di fede non sono non vanno troppo spesso insieme ecco perché sono decisamente a favore di Auerbach e non contro Auerbach per un verso infatti la storia letteraria può essere pura imposizione dall'alto di un paradigma prendete per esempio la storia di De Santis che è il capolavoro dell'astrografia italiana dell'Ottocento beh il diagramma il paradigma De Santis è chiaro lineare unitario lo è soprattutto rispetto alle storie letterarie erudite del 7-800 il ruolo che ciascun attore ha in questo racconto Dante Boccaccio non si presta equivo ci sono ruoli si sa chi è il buono e chi è il cattivo il fine implicito del discorso anche molto chiaro si tratta di individuare nella storia letteraria una tendenza una parabola una finalità ben precisa un senso della storia che culmina nel presente nel risorgimento nella formazione dell'unità nazionale però per ottenere questo risultato in una certa misura De Santis chiede al lettore di fidarsi chiede un atto di fede Auerbach non lo fa non lo fa perché poteva contare su uno strumento formidabile appunto quel cui faceva riferimento Franco Moretti cioè la stilistica inventata diciamo così da Spitzer e da altri proprio in quegli anni però Auerbach non è un critico dello stile in senso stretto infatti Spitzer non lo ha mai riconosciuto come tale ha sempre preso le distanze in modo molto netto anche nel suo ultimo intervento prima prima di morire ha detto molto chiaramente Mimis non è un libro di critica stilistica Auerbach usa la stilistica per convalidare le sue ipotesi Mario Mancini in un libro di qualche anno fa ha parlato di stilistica filosofica come sapete ciascuno dei venti capitoli del libro si apre con una citazione con un'analisi molto minuta molto dettagliata dello stile della sintassi soprattutto che offre all'autore gli argomenti per stabilire non solo il senso del testo ma soprattutto la posizione di quel testo all'interno di un paradigma che è il paradigma del realismo tra l'altro chi ha letto il primo libro di Auerbach Dante poeta del mondo terreno del 29 si accorge immediatamente dell'enorme differenza perché lì la critica stilistica non c'era ancora Spitzer aveva pubblicato da un paio d'anni credo gli Stilstudien quindi ancora era un metodo che Auerbach non aveva assimilato non aveva nemmeno assimilato come dire quegli aspetti di contenuto teologico che poi insomma invece sono la sostanza dei saggi degli anni 30 e anche di Mimesis il saggio su figura l'idea del figuralismo tutto questo non c'è nel primo libro su Dante Dante poeta del mondo terreno e secondo me la stroncatura che gli fece Croce era giusta era giusta dicevo dicevo però che il problema delle storie letterarie non è soltanto quello di sacrificare spesso l'analisi soggettiva al senso complessivo cioè di chiedere al lettore di fidarsi c'è anche il problema di non perdersi nella mole dei dati cioè di non ridurre la storia letteraria a una lista più o meno ampia di nomi di date di opere che è un rischio di tante storie letterarie ovviamente anche di tante storie letterarie scolastiche dati manuali anche per l'università per esempio ci sono stati tentative di svecchiamento che risalgono alla fine del secolo scorso che però forse hanno reso ancora più complicate le cose perché hanno in parte frantumato l'asse diacronico l'asse storico tradizionale affiancandogli un asse sincronico multidisciplinare trasformando la storia letteraria quasi in una enciclopedia chi era studente come alcuni dei presenti alla fine del secolo scorso ricorda bene per esempio il rinnovamento di paradigma e anche lo scompiglio portato da un manuale come quello di Cesarani De Federicis il materiale dell'immaginario in un paronama dominato dall'ostricismo di vecchio di vecchio tipo da manuali come quello di Salinari Ricci per esempio e ricorderanno soprattutto l'ultimo volume di quella magnifica opera che tanti di noi lessero con avidità non appena uscì perché era una splendida una giornatissima guida alla contemporaneità all'annovecento più più contemporaneo più più stretto però era anche un libro che solo chi aveva già maturato un'idea del novecento poteva poteva apprezzare davvero non gli studenti dei licei che infatti rimasero in genere piuttosto disorientati e perplessi leggendolo ma chi magari stava terminando l'università chi preparava un concorso per il dottorato insomma qualche idea magari sbagliata ce l'aveva già di cosa fosse del novecento ecco ora leggendo Mimesis non si ha mai l'impressione di perdere l'orientamento non si ha mai l'impressione di smarrire la bussola anche se il racconto attraversa una trentina di secoli di storia ecco il filo del racconto non si perde mai le direttrici di senso del libro sono poche e sono chiare anche se il lettore deve avere la pazienza di arrivare all'epilogo alle conclusioni di questo libro che sono 5-6 paginette non di più per vederle finalmente chiarire in modo esplicito e un consiglio che io do sempre a chi si appresta a leggere Mimesis è di partire dalla fine la cosa migliore partire dalla fine è anche un po' provocatoriamente risaltare il primo capitolo perché se non è il primo capitolo confonde le idee poi le ha confuse a qualcuno mi piace c'è il libro di Daniel Mendelssohn Tre Anelli che è tutto giocato sul primo capitolo in particolare sulla lettura del brano della cicatrice di Ulisse che insomma è affordiante cioè dà un'idea sbagliata di quello che è Mimesis insomma su questo si può parlare ora per venire alle provocazioni di di Franco Moretti direi che allora negli anni 60 e 70 non si parlava di Auerbach questo probabilmente è vero in compenso se ne era parlato molto negli anni 50 nella seconda metà degli anni 50 quando nel 56 Einaudi pubblica la traduzione non perfetta devo dire non perfetta di Mimesis con tanti problemi che sono stati evidenziati la traduzione inglese e quella francese sono nettamente migliori ne ha parlato diverse volte Francesco Orlando per esempio in tanti suoi interventi quella francese è sicuramente migliore ma è anche molto molto successiva che testimonia anche un problema della cultura francese a recepire questo capolavoro dello storicismo in fondo è anche questo si sa che nella seconda metà degli anni 50 c'erano lettori accanitamente Auerbachiani come Pasolini che addirittura costruisce opere costruisce libri guardando a Mimesis nel modo suo commettendo Cito Fortini Cito Fortini dei madornali errori logici e ideologici Cito Fortini però insomma l'aveva letto e non era soltanto non solo lui lo stesso Fortini torna più riprese su questo libro non sempre per parlarne bene ovviamente e quindi questo per situare poi è verissimo quello che hai detto e cioè che c'è stata in anni negli ultimi vent'anni direi 20-25 anni una Auerbach-Renaissance c'è stata sicuramente tanti convegni in Italia e all'estero che hanno rilanciato Mimesis e non soltanto Mimesis un'altra la prima vera obiezione che Franco Moretti ha fatto è che Auerbach non offre un metodo per l'analisi dei testi qui Auerbach ti darebbe ragione perché in uno dei saggi che sono stati tradotti e raccolti in una antologia curata da me da Cristian Rivoletti qualche anno fa per l'edizione della Normale di Pisa c'è un saggio che si intitola se non ricordo male la filologia come arte l'idea è che la filologia intesa come critica è un'arte e non una tecnica c'è questa consapevolezza quest'idea per cui la critica non è qualcosa di protocollabile dicevi tu e che è un po' però forse anche questo è un portato dell'epoca cioè c'era una difficoltà in quegli anni a fare teoria della letteratura in senso come la intendiamo noi allo stesso tempo devo dire che non mancano degli scritti dei saggi in cui Auerbach spiega il suo metodo appunto nelle conclusioni di Mimesis negli Epilegomena Mimesis un saggio di qualche anno dopo nella premessa lingua letteraria pubblico per esempio è un'opera dimenticata di Auerbach che tratta di testi della letteratura latina medievale meno interessanti per noi ma molto bello in cui tra l'altro è ripetuto lo stesso metodo di Mimesis quindi lo stesso Auerbach in qualche modo protocolla quel metodo e lo riutilizza tutto sommato in modo identico anche in quest'altro grande libro e poi nel saggio sulla Weltliteratura quindi da una parte c'è una missione di diciamo di disinteresse per la teoria dall'altro non mancano alcune proposte molto limitate ma soprattutto quello che non manca è stato nella ricezione di Mimesis una effettiva non dico imitazione perché sarebbe stupido e inutile parlare di imitazione di Mimesis però tanti studiosi a partire appunto da Orlando libro sugli oggetti desueti hanno fatto questo cioè hanno preso in parte il modello di Mimesis partire dal testo fare dell'osservazione di carattere formale sul testo per arrivare a una proposta di senso una proposta di significato è vero e sono d'accordo questo sono d'accordo che in Mimesis del tutto assente quasi del tutto assente un ragionamento sulle macro strutture tutto si gioca sulle micro strutture sullo stile questo è verissimo ma è appunto un portato della cultura di quel tempo della novità della suggestione del metodo spizzeriano che effettivamente era qualcosa di nuovo qualcosa che permetteva di accostarsi oggettivamente ai testi al di là dell'impressione dell'intuizione soggettiva è vero in parte perché in realtà il discorso che Auerbach fa a proposito di Dante e di alcuni medievali di alcuni autori medievali cioè il discorso sul figuralismo per intenderci beh lì c'è invece una un'idea di quello che potrebbe essere stata la critica di Auerbach la prospettiva di Auerbach se anziché diciamo rifarsi a spizzer si fosse rifatto a un altro modello che però che però mancava questo sono d'accordo ma è un è un limite sostanzialmente ripeto della della cultura di quegli anni se di limite si può parlare aspetta facciamo facciamo così facciamo così ecco spegni quello bene mi sentite sì bene molto tutto molto interessante quello che avete detto è molto stimolante poter discutere di questo argomento con voi Simona Micali mi ha presentato come difensore di Auerbach d'Ufficio in realtà la mia posizione è più ambigua siccome Riccardo citava Pasolini io comincio con una citazione di Pasolini sono una forza del passato solo nella tradizione è il mio amore indubbiamente Auerbach è un autore del passato Auerbach è un autore inattuale Auerbach è un autore che fin dagli anni 80 e 90 a cominciare dalla ricezione americana ha subito delle critiche che ne sottolineavano l'inattualità l'improponibilità nello scenario intellettuale contemporaneo le tre cose che rendono Auerbach inattuale e irreplicabile oggi sono in primo luogo quella su cui lui stesso si era interrogato a lungo cioè l'aumento delle conoscenze minute l'aumento della divisione del lavoro intellettuale l'aumento delle cose che oggi sappiamo sul passato sui testi sulla tradizione sulle tradizioni e che all'inizio del novecento nel periodo in cui nei primi decenni del novecento nel periodo in cui Auerbach è studente e poi intellettuale bibliotecario in informazione si ignoravano si potevano ignorare a partire dagli anni 60 gli anni 70 come sappiamo la quantità innanzitutto di persone addette al studio alla manutenzione della cultura alla produzione di metadiscorso intorno al passato in generale intorno al passato letterario in particolare si è moltiplicata per un fattore almeno 10 e questo ha reso la sintesi fisicamente più difficile bisogna conoscere più cose , leggere di più e ad un certo momento questa capacità di tenere insieme l'empiria ha superato le possibilità di sintesi di un singolo essere umano questo problema ce l'aveva davanti anche Auerbach è il primo è il problema di metodo che si pone più spesso ed è il problema cui risponde attraverso l'invenzione del metodo dei campioni che poi è all'origine di Mimesis la seconda ragione è quella su cui insisteva Franco Moretti parlando di come è invecchiato il concetto Auerbachiano della Weltliteratur si sono allargati gli spazi geografici oggi chi intenda parlare di letteratura in generale è obbligato a uscire dalla tradizione europea per Auerbach questo problema non si è mai posto Auerbach è sempre stato un storico della letteratura europea in senso lato della letteratura di origine europea non si è mai posto il problema per esempio che Franco Moretti si è posto quando ha curato i cinque volumi della storia del romanzo di allargare i confini geografici come si dovrebbe fare essendo il sistema mondo diventato una world literature e non più una Weltliteratur a base europea a questo Auerbach non può rispondere perché questo problema nella sua epoca non si poneva come si pone nella nostra la terza ragione è che il soggetto interpretante una grande forse la più grande trasformazione che i nostri campi hanno subito nell'ultimo mezzo secolo è che il soggetto interpretante della storia si è pluralizzato Auerbach definiva se stesso definiva la propria cultura cultura umanistica tardo-borghese si definiva un umanista tardo-borghese un umanista alto-borghese anche di origine oggi lo definiremmo un maschio bianco-borghese morto ecco negli ultimi cinquant'anni una pluralità di soggetti non maschi non bianchi non borghesi e non morti hanno rivendicato il diritto di parola sulla tradizione e hanno rivendicato un punto d'attacco diverso nei confronti della tradizione a questa cosa Auerbach non poteva rispondere il risultato qual è stato il risultato è che ciò che Auerbach ricercava cioè una possibilità di sintesi che riuscisse a rispondere al diventare plurale della non della tradizione ma al diventare plurale vertiginosamente plurale del quantità di ricerche prodotte questo questo tentativo di sintesi oggi è diventato problematico se non impossibile la storia quantitativa cui Moretti ha lavorato per due decenni almeno era un tentativo di rispondere al alla moltiplicazione della tradizione usando metodi non convenzionali usando armi non convenzionali cioè uscendo da quello che tradizionalmente facevano gli umanisti i quali cercavano una sintesi attraverso letture personali e attraverso l'intervento di un singolo soggetto è stato un tentativo di coinvolgere metodi di studio e forme di indagine che oltrepassassero questo questo tipo di approccio è stato un tentativo molto intelligente molto interessante e dai risultati però incerti tant'è vero che nell'opera di Moretti esistono due Moretti un Moretti diciamo che è totalmente auerbacchiano anche se non lo ammette e un Moretti che ha cercato di non essere auerbacchiano ma poi è rimasto perplesso davanti alle possibilità di sintesi che il nuovo metodo gli garantiva che cosa voleva fare Auerbach Auerbach è uno storicista Auerbach si era reso conto che lo storicismo e lo teorizza con straordinaria lucidità erano in realtà due cose diverse cioè era la stessa matrice ma divisa in due metodi e in due filoni diversi il primo era lo storicismo idealistico derivante della grande montagna della cultura romantico idealistica tedesca il cui picco più alto era probabilmente l'estetica di Hegel questo modo di fare storia letteraria ad un certo momento ad Auerbach molto presto era sembrato inapplicabile perché faceva riferimento a quelli che lui chiamava i concetti astrettamente riassuntivi cioè manierismo classicismo romanticismo oggi diremmo modernismo postmodernismo cui Auerbach non ha mai creduto come concetti unificanti a maggior ragione non credeva ai concetti cardine di quella tradizione come lo zeitgeist il volksgeist eccetera perché? perché ben presto Auerbach filologo si era incontrato con la seconda tradizione dello storicismo che è quella appunto filologico positivistica che è scettica nei confronti delle grandi sintesi ideali vede i testi e diffida delle grandi categorie unificanti per tutta la vita Auerbach ha cercato di tenere insieme queste due tradizioni e Mimesis è il risultato acrobatico del tentativo di tenerle insieme acrobatico è riuscito perché è riuscito? partiamo da usciamo da Auerbach e chiediamoci una cosa noi che ci occupiamo di storia letteraria quali testi della storia letteraria che non sia empirico filologico empirica della storia letteraria interpretante dell'ottocento e del novecento sopravvivono la teoria del romanzo di Lukács chi ci crede a teoria del romanzo di Lukács crediamo ad alcune intuizioni pagine straordinarie visioni illuminanti ma non crediamo al disegno complessivo di teoria del romanzo di Lukács neanche al metodo che per Auerbach sarebbe stato precisamente quella prosecuzione dell'idealismo dei concetti astrettamente riassuntivi che non avrebbe mai preso in considerazione per sé peraltro Auerbach era partito da quella tradizione cioè il suo primo libro Dante poeta del mondo terreno e costruito in quel modo lì il suo primo grande libro ambizioso il sopravviva Bakhtin crediamo veramente a Bakhtin nel senso Bakhtin è pieno di straordinarie intuizioni è un autore che sta simpatico oggi per tanti motivi anche soprattutto perché è un anarchico e perché vede il potere in modo solo negativo e non come potere istituente ma crediamo veramente alla teoria del romanzo di Bakhtin se non per frammenti no credo io crediamo a Fry autore geniale sotto tanti aspetti ma anche in questo caso pieno di frammenti di singole parti dell'edificio molto vive e molto interessanti ma crediamo al suo sistema no lo diceva Riccardo Castellana prima con molta chiarezza Riccardo essendo uno studioso di Fry crediamo a Roland Barthes crediamo al grado zero della letteratura no Roland Barthes dico io oggi andrebbe considerato uno straordinario scrittore e il Roland Barthes maggiore è quello che comincia dal 1975 in poi quello che non piaceva a Francesco Orlando chiudo la parentesi crediamo agli oggetti desueti nelle immagini della letteratura di Francesco Orlando 1993 1993 no che possiamo credere a Illuminismo e retorica freudiana che è un libro intriso di elementi auerbachiani ma non crediamo a quel tipo di sintesi crediamo a Postmodernismo di Jameson vengo a proprio a no a cosa crediamo crediamo a quei libri che crediamo a Mimesis nel senso non è che crediamo a Mimesis Mimesis ancora funziona cioè Mimesis lo si può proporre con tutti i suoi limiti e la critica interna che si può muovere ad alcuni capitoli lo si può proporre come plausibile imperfetta filosofia della storia letteraria che ancora sta in piedi e poi abbiamo alcune straordinarie ricostruzioni di media durata per esempio tutti i libri morettiani della stagione non quantitativa libri intrinsecamente auerbachiani con altri mezzi sono libri di questo tipo che stanno in piedi e sono libri che sono fondati in realtà sulle principi costitutivi del modo di fare storia letteraria di Auerbach questi motivi e questi principi sono molto semplici il primo è lo storicismo cioè quello che esiste si dispone in una sequenza storica e lo storicismo è un l'esperienza del fatto che il passato e una terra straniera fanno le cose diversamente laggiù come dice un adagio cioè che il passaggio di epoca determina un passaggio di forme di vita lo storicismo è la prima esperienza nella visione di Auerbach e in generale innanzitutto di relativismo culturale e in secondo luogo di relativismo culturale interno intrageografico interno ad una tradizione che rimane chiusa perché lo storicismo che noi pratichiamo è uno storicismo intraeuropeo nessuno osa avventurarsi fuori dalla tradizione europea anche per la buona ragione che non sta probabilmente alle nostre generazioni forse alle vostre comincia ad essere compito delle vostre uscire dalla cultura europea conoscendo la lingua o le lingue delle altre culture presso le quali si va noi non le conosciamo e dunque non possiamo dire nulla se non di seconda mano dunque storicismo e poi un metodo di analisi dei testi che ha una tradizione bimillenaria la stilistica la critica stilistica che ricordava Riccardo essendo la prosecuzione novecentesca di metodi forme modi di stare davanti al testo che sono state la filologia e la retorica a istituire e inventare almeno due millenni fa la critica stilistica non inventa nulla sviluppa ma non inventa nulla il suo linguaggio di analisi il suo modo di stare davanti al testo ha una tradizione bimillenaria la ragione per cui oggi Franco cominciava parlando del forma dei due metodi che si contendevano il campo culturale negli anni sessanta e negli anni settanta oggi cosa rimane del formalismo strutturalista cosa rimane di quella tradizione macerie frammenti frammenti qualcuno crede ancora alla narratologia se non per frammenti sì anch'io la uso per frammenti ma veramente crediamo che quella cosa funzioni intrinsecamente come ci poteva credere genet o come ci poteva credere prince o come ci poteva io credo che in realtà tra tutti appunto quella tradizione quello che funziona meglio alla fine è chatman perché è quello che più lascia andare che meno cerca di formalizzare rimane qualcosa di tutta la grande galassia dello strutturalismo no quello che abbiamo è storia quello che abbiamo è la rielaborazione di due millenni di filologia e retorica che ancora funziona davanti ai testi prova ne sia che la critica stilistica ha ancora una forza e andrebbe ancora a mio modo di vedere insegnata nel nel core istituzionale dei nostri corsi rimane quello e come può nascere una sintesi da quello come diceva Auerbach questa è la scienza poi su questa sulla base di questa scienza c'è solo l'intuizione scienza più intuizione non si esce da questo come si può uscire da questo ci ha provato la storia quantitativa della letteratura ed è stato l'esperimento più avanzato per tentare di uscire con metodo scientifico da l'impasse della tradizione dai limiti della tradizione auerbachiana che io riconosco perfettamente e ammetto se no cosa c'è c'è la critica tematica cioè studiare la letteratura in funzione di alcuni archetipi la critica tematica va presa seriamente nel senso che probabilmente il fondatore della critica tematica in senso nobile e ampio e ambizioso sta fuori dalla storia della letteratura ed è Abbi Warburg c'è quel modo lì cioè considerare il dialogo tra le culture sulla base della presenza di alcuni archetipi universalmente umani radicati nella condizione umana nelle forme del pathos della condizione umana oppure nel modo di stare al mondo della condizione umana grandi temi dell'esistenza visti attraverso la letteratura poi ci cosa c'è ci sono i case studies quando andiamo a un convegno di letteratura comparata ci troviamo davanti l'80% dei casi ha dei case studies cos'è i case studies è quello che rimane dopo che hai perso una storia una filosofia della storia letteraria un canone oppure c'è il soggettivismo spinto parlo di quello che mi ha colpito parlo di quello che mi interessa questo è il 20% dei degli interventi dei convegni di letteratura comparata è fatto così l'80% di solito sono case studies e poi ci sono alcuni sparuti tentativi di 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 arrampicarsi in questione di critica tematica eccetera questo è ciò che rimane questo è è ciò che rimane la filosofia e la storia di Auerbach ha i suoi limiti ma ancora tiene per quanto riguarda il racconto della storia letteraria di origine europea ciò che sta fuori è terra incognita me ne rendo conto probabilmente dovremmo abituarci ad un mondo nel quale la sintesi non è più possibile ed è sicuramente quasi sicuramente l'approdo della nostra cultura faccio notare che la sintesi è però un bisogno soggettivo cosa che Auerbach tante volte sottolinea e poi è un atto istituzionale le istituzioni creano sintesi nel momento in cui si fa un programma scolastico nel momento in cui si dice che al liceo alle scuole secondarie superiori si insegnano Dante Petrarca Boccaccio Ariosto Tasso Machiavelli Guicciardini eccetera e si fa la lista degli autori di cui si deve parlare si è fatto un canone nel momento in cui le università americane decidono un coar hanno costruito un canone le istituzioni non possono fare a meno della sintesi dunque come ci poniamo non c'è risposta Auerbach è sicuramente la cosa che più si approssima all'interno della tradizione europea ancora adesso ha una risposta è un testo del passato è una forza del passato tutte le critiche che gli sono state fatte sono vere hanno un fondamento non abbiamo un'alternativa migliore grazie grazie davvero a tutti e tre i nostri relatori anche per questi plot twist sul finale appassionante quasi quanto un film giudiziario per cui il eh no il contro Auerbach pro Auerbach è diventato in realtà un Mazzoni Moretti con Castellana che con Auerbach molto molto interessante allora io devo dire faccio fatica a tenermi in parziale ma mi manterrò in parziale come il mio ruolo di coordinatrice vuole sicuramente ci vuole un altro giro di opinioni però io prima ne approfitterei per aprire il tavolo se ci sono altri interventi tra gli intervenuti oppure da casa chi se la sente di dire la sua ma anche chi non se la sente non vi state a preoccupare insomma non c'è bisogno di entrare in quest'agone si possono anche fare penso soprattutto ai nostri studenti e ai dottorani si possono anche fare domande osservazioni impressioni eccetera eventualmente anche per chi è collegato basta alzare la manina o prenotarsi in chat io ho l'impressione che non stia più andando lo streaming su YouTube perché qui è saltato tutto spero che da casa ci continuino a sentire ma ad ogni modo ci siamo noi qualcuno se la sente di rompere il ghiaccio? mi alzo vediamo se c'è qualche mano sono vi avete sdraiati insomma come dice Amleto è meglio non mettersi in mezzo a queste cose allora diamogli un po' sì sì tutti zitti nessuno nessuno che osa intervenire vabbè provo a rompere un attimo il ghiaccio non entrando assolutamente nel dibattito ma dicendo soltanto che una delle cose che hai detto franco mi è veramente molto utile mi ha spiegato una mia reazione che pensavo fosse del tutto idiosincratica io sono una di quelli che se quando arriva più che il dottorando il laureato che vuole provare i dottorati no? e che dice che cosa posso leggere per provare i dottorati di comparatistica e uno che cosa gli dà? gli dà Bachtin gli dà Auerbach poi gli dà anche giustamente Franco Moretti Bart forse no questo perché dico se no non ci arriva più a fare l'esame di dottorato quindi però gli dai una serie di queste cose e poi c'è il dottorando che ti viene a proporre un progetto di dottorato e che ti dice io vorrei fare uno studio su questo aspetto del romanzo italiano e francese eccetera interessante in che prospettiva lo vuoi fare? volevo seguire un po' il modello di Mimesis di Auerbach e io lì di solito lo scaccio perché per me questo significa seguire il modello di Mimesis di Auerbach che prendo una serie di brani gli faccio parlare non leggo bibliografia perché tanto la letteratura parla da sola mi sono spiegata il perché di questa mia reazione no guardi non riesco a seguire questo progetto mi dispiace c'è qualcun altro che vuole vuole dire qualcosa vuole intervenire prima di poi alla fine come nelle Umeni ti diamo il verdetto ma il verdetto lo danno loro? io no no tu fai l'ultimo voto quello che quello a facciatena quindi ma è mica male mica male buon ruolo allora vabbè io intanto sono contento perché vedi è meglio farle così le presentazioni dei libri piuttosto che dire sono cose belle è meglio fare così cioè c'è qualcosa in gioco no? c'è qualcosa in gioco su come uno valuta Auerbach e io devo dire ascoltandovi poi si sono assomigliati i vostri interventi su una questione fondamentale che io metterei così tu hai detto Benjamin Barth Frey questi altri grandi di 1900 sono come dire si sono sono invecchiati meno bene mi sembra che è l'espressione che tu hai usato Guido ci ha messo il carico da 11 e ha fatto un evento cosa resta di Luvice cosa resta di Bhakti rovine frammenti era una sta insegnando la terra devastata e quindi naturalmente gli viene congeniale questo tipo di immagine allora io qui ho due obiezioni di fondo primo che la difesa di Auerbach è diventata una difesa del meno peggio ma il meno peggio è una cosa importante per amor di Dio è una cosa importante nella vita quello che tu dicevi Guido mi ricordava la famosa battuta di Churchill l'ho attribuita a Churchill secondo cui la democrazia è il peggior regime che esista a parte tutte le alternative ecco ma questo appunto uno può pensare che la democrazia in questo paese anche in altri paesi simili al nostro sia veramente con le pezze sul sedere e tuttavia pensare che sia meglio delle alternative che circolano questo è serio è ragionevole farlo in polire ma nella ricerca letteraria ma perché dobbiamo andare in cerca del meno peggio ma che ce ne frega di salvare quattro galline e riportarle tranquillamente a casa nella ricerca letteraria se c'è un campo in cui dobbiamo provare a sparare un razzo verso la luna è quello e se no che lo facciamo a fare tra l'altro appunto in un campo che sta diventando sempre più obsoleto perché ci sono altri media perché eccetera 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 e noi stiamo cercando di dire beh quello però ancora un pochino se la cava e si vedono le rughe su tante tutte le critiche che avete fatto sono giuste però ma se tutte le critiche sono giuste però mica tanto eh è insomma e poi ecco quando uno si ingegna a fare quando no uno perché tu beh ne parli io poi sono fuori dall'università ormai quasi da una decina d'anni quindi figura da quella italiana da 30 e più quindi non 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 ha senso che io parli di come funzionano le istituzioni e che usi che usi il primo il pronome di prima persona plurale con la come che cosa abbiamo che cosa ci resta che cosa possiamo fare quindi prima persona singolare quando io cerco di fare un ragionamento il migliore il più fondato possibile sulla letteratura onestamente io non parto mai da ma non mi è mai capitato parto da un pezzo di Bart questo vuol dire che tutto Bart ma figurarsi però il saggio mi pare del 66 sull'analisi del racconto ha messo insieme alcuni concetti da cui secondo me ogni volta ha senso ripartire rileggersi cercare di capire stesso su prop stesso su non su fray ma su luca sicuramente su benjamin non ne parliamo su bactin eccetera eccetera vuol dire questo che uno qualsiasi di questi signori ha prodotto qualcosa paragonabile a mimesis no ma questo è un altro discorso mimesis è effettivamente un grandissimo libro del suo genere non è un libro su cui si può costruire questo era il punto del mio intervento allora se in ballo nello studio della letteratura cercare di costruire delle conoscenze interessanti e nuove da lì non si può ripartire se si deve conservare un minimo di dignità buone maniere e cultura d'accordo però secondo me non si deve far questo se la letteratura prova a far questo sempre più noioso diventerà lo studio della letteratura vedi tu hai usato un'espressione molto bella dicendo leggendo mimesis non si perde mai l'orientamento e questo è vero e questo è vero ma è un merito ma quando io mi è capitato di leggere alcuni sinologi alcuni antichisti che parlavano di tragedie greche che io credevo di conoscere ma la scossa della conoscenza mi è venuta quando di improvviso ho perso l'orientamento ho detto madonna ma come fanno i romanzi in questo modo in Cina ma come è possibile ma veramente il coro può avere questa funzione qui e così via e così via cioè è quando per non parlare appunto cosa resta dello strutturalismo beh io ogni volta che riapro Levi Strauss resta bocca aperta non perché sia tutto o anche la maggior parte perfettamente solido ma la quantità di possibili intuizioni e punti di partenza è sconcertante poi sta a te quello che ci fai però lì ci sono non c'è appunto non c'è il menu completo come c'è in Mimesis però non è di questo che dovremmo andare in cerca poi ci sarebbero altre cose però insomma questo è l'essenziale dunque so bene da dove partire mi ha molto colpito l'agnosticismo di Guido io penso invece che tante cose dei critici da lui nominate delle tendenze critiche da lui nominate siano da salvare assolutamente e penso anche che la ricerca letteraria per venire al punto la questione sollevata da Moretti sia anche necessariamente confronto con chi ci ha preceduti io non riesco a intenderla diversamente c'è per forza e e confronto dialettico dello strutturalismo non rimane nulla no secondo me rimane e forse ci siamo persi dei pezzi secondo me qui in Italia dei pezzi di storia dello strutturalismo e della narratologia che per qualche ragione editoriale o non so non so bene per cosa non sono arrivati fino a noi penso per esempio al fatto che dei libri assolutamente meravigliosi come Transparent Minds di Dorit Kohn non siano arrivati in Italia non siamo mai stati tradotti in Italia pure sono sono dei capolavori che ti fanno capire come lo strutturalismo non sia quella riduzione a schemini e a compitini che spesso diventate nella pratica didattica scolastica anche qualche volta universitaria ma sia qualcosa che invece ha a che fare con qualcosa di molto profondo dello studio letterario qualcosa che ha a che fare con il concetto di finzione per esempio qualcosa che ha a che fare con il problema capitale della rappresentazione della vita interiore del personaggio ci siamo persi qualche pezzo ripeto a un certo punto la narratologia non è stata più di moda e si è preferito tradurre altro si è preferito parlare di altro però insomma si è perso molto io credo su questo piacerebbe anche sentire Moretti cosa ne pensa Simona diceva che si è un po' pentita di suggerire Mimesis come modello Mimesis in realtà non è solo un corpo a corpo con il testo in Mimesis c'è tanta bibliografia nascosta che Auerbach non cita ma c'è che è il risultato di una riflessione profonda di una queste cose si sono capite un po' meglio forse studiando le posteriore stille ai libri posti tutti da Auerbach su cui sono stati fatti degli studi dei convegni la biblioteca di Auerbach è custodita a Austin in Texas un centro questi meravigliosi centri di ricerca americani e riserva delle sorprese interessanti c'è tanto Auerbach c'è tanto ci sono tanti studi dietro Auerbach Hoitzinger è uno di questi è forse uno dei pochi citati in Mimesis nel capitolo 9 sull'autonomio medioevo ma nel fatto ce ne sono tanti altri e riguardo al perdere il filo all'orientamento questa è una domanda interessante certo che la critica non deve soltanto rassicurare questo sono sono d'accordo e deve anche saper reagire all'alterità e alle provocazioni che l'incontro con una cultura completamente diversa citavi la tragedia cinese o comunque produzione letteraria strana alla cultura europea sono d'accordo però anche quando dobbiamo ragionare sullo straniamento che certi testi ci provocano abbiamo bisogno di guide rassicuranti che ci dicano cos'è lo straniamento come funziona penso ai formalisti russi anche in quel caso certo ci dobbiamo lasciare stupire disorientare ma poi abbiamo subito bisogno di una teoria che ci rassicuri su come funziona questo shock percettivo e le istituzioni hanno bisogno di sintesi diceva Guido non mi sono tanto sicuro perché io mi sembra invece di vedere che nella pratica scolastica nella pratica didattica una un'anarchia sempre più più diffusa sempre più dilagante quindi è davvero c'è davvero un bisogno di sintesi nelle istituzioni scolastiche io temo di no temo che non ci sia non sia più avvertito questo bisogno forse era avvertito un tempo quando la letteratura poteva essere anche veicolo di ideologie oggi ho l'impressione che non sia più così che convenga forse lasciare tutto questo nell'indistinto ma forse mi sbaglio sì rapidamente dunque Auerbach difesa del meno peggio Auerbach è un libro di straordinaria ambizione il libro forse più ambizioso che la critica letteraria abbia prodotto nel novecento perché è una filosofia della storia letteraria occidentale da Omero e la Bibbia a modernismo è un libro di straordinaria ambizione cioè non va visto come come un libro in minore non dobbiamo dare retta all'understatement di Auerbach Auerbach è un autore understated appunto nasconde le proprie fonti delle fonti bibliografiche fa finta di essersi svegliato la mattina di essersi messo davanti a un testo così non era vero non era assolutamente vero e la sua è una filosofia della storia letteraria cioè è una un racconto di tutta la storia letteraria occidentale dalle origini al modernismo un libro di straordinaria ambizione e sono d'accordissimo col fatto che leggendo Levi Strauss leggendo chi volete voi si ricavino straordinarie intuizioni pagine che stimolano ulteriori riflessioni che danno idee illuminano un intero paesaggio storico sono d'accordissimo su questo ciò che però continuo a sottolineare è che quella di Mimesis è l'unica filosofia della storia letteraria che ancora storia letteraria occidentale che ancora più o meno regga regga sulla lunga durata regga sulla media diciamo plurisecolare durata regge alla fine regge c'è poco da fare quei 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 scansioni elementari secondo me sono ancora vere e questo non è poco non è assolutamente poco ed è l'unica di cui mi sentirei dire questa cosa cioè cosa abbiamo se no il canone occidentale di Bloom crediamo al canone occidentale di Bloom no il discorso del bisogno di sintesi sono e non sono d'accordo nel senso che è vero che le istituzioni vanno sempre di più verso l'introiezione della pluralità però è vero che quelle istituzioni di quei paesi che sono andate verso l'introiezione della pluralità per esempio l'anglosfera soprattutto agli Stati Uniti nelle high school poi quando accedono a livello di istruzione superiore quasi sempre reintroducono una forma di core cioè di canone di grandi libri della cultura occidentale a quel punto ritorna l'idea di una filosofia della storia questo e poi l'altra l'altra questione ammesso che si vada verso la pluralità questa pluralità è un bene vuol dire chi ha insegnato negli Stati Uniti sa in che condizioni arrivano gli studenti alle alle ai corsi undergraduate cioè vede che quello è il risultato io nella pedagogia sono anche sia ateo nelle convenzioni religiose sono inconsciamente cattolico cioè credo che esista il libro che esista una fase nella quale sia il sacerdote a spiegare il libro ai fedeli e i fedeli debbano stare zitti fino a quando non hanno imparato un po' del libro e poi possono prendere la parola non sono per non credo che il Dio parli nel e dentro ognuno e permetta ogni fedele di prendere la parola sulla Bibbia avendo qualcosa da dire non sono protestante nell'anglosfera soprattutto negli Stati Uniti si va verso il modello protestante non credo non scusa Riccardo ma Transparent Minds non è un libro strutturalista secondo me no assolutamente è un grandissimo libro che verrà presto tradotto per merito di Riccardo Castellana è un grandissimo libro ma non è un libro strutturalista anzi la cosa però che vorrei dire ringrazia quello che diceva all'inizio Franco è Auerbach Auerbach ci ha dato una sintesi non ci ha dato un metodo questo tu dicevi ecco io l'ultima cosa che voglio dagli studi letterari è un metodo come il metodo era inteso negli anni 60 e 70 come tipo i nuovi metodi della critica letteraria quel libro che esce negli anni 70 quello non lo voglio per me le tre cose che contano sono la storia lo storicismo e la filologia e la retorica tutto il resto sono spunti intuizioni che prendi dalle scienze umane che prendi eccetera però questa è la base non voglio non voglio nient'altro non voglio pretese che la critica letteraria sia una scienza perché non lo è non lo è la critica letteraria è scienza quando fa storia scienza quando si serve della filologia scienza quando attraverso la retorica e la sua tradizione entra nei testi e li spiega tutto il resto è arte come dice Auerbach tutto il resto è affidato all'intuizione soggettiva che tra i propri spunti da Levi-Strauss Barth la filosofia le scienze umane i libri di divulgazione scientifica eccetera questo ecco ma io due parole da lettore come credo tutti noi di Auerbach sono Carlo Caruso sono Carlo Caruso da parte da là non mi vedo mamma mia allora no da lettore appassionato occasionale chiaro di Auerbach non dirò di tutto Auerbach ma di buona parte di Auerbach a me quello che ha sempre colpito e colpisce tuttora e credo che sia ancora molto valido per chiunque si avvicini ad Auerbach credo sia il senso del limite il senso del limite che già sappiamo è insito nelle condizioni di tipo pratico noi sappiamo tutti come è nata Mimesis non aveva libri Auerbach così dice lui naturalmente un po' esagerando molti ne aveva già introiettati ma ne aveva poche a disposizione e ha quindi scritto su quello che aveva a disposizione come meglio poteva ma non è tanto quello poi il titolo vero Mimesis via la rappresentazione della realtà nella letteratura occidentale quindi Weltliteratur non più tanto è letteratura occidentale credo che mi pare di capire ma qui c'è Andrea Landolfi forse non lo so ma mi pare che ci sia una regressione rispetto all'idea di Weltliteratur che fu di Goethe e dei romantici regressione e naturalmente anche avanzamento da un altro punto di vista poi c'è anche la questione del filologo io credo che Auerbach nella formazione di filologo che aveva che non so fino a che punto definirei positivistica direi sì ma molto temperata anche da una consapevolezza superiore direi mi pare che faccia che scelga ora non ricordo se sceglie autori russi in Mimesis no sono tutti autori di cui lui padroneggia la lingua in naturalmente una prospettiva non semplicemente sincronica ma anche diacronica quindi dal greco alle letterature romanze ecco mi pare che il senso del limite sia fortissimo in Auerbach fortemente consapevole giustamente come dicevate non dichiarato perché è un elemento quasi introiettato e per lui ovvio ma mi pare che sia ancora parte di quella lezione che Auerbach può darci e che credo sia credo ancora interessante per tutti scusate grazie grazie Carlo allora Carlo ha rotto il ghiaccio c'è qualcun altro che vuole intervenire prego vai tanto ci smetterà un po' chiedo scusa io trovo molto montagnano Auerbach cioè uno dei suoi modelli credo sia montagna credo su questo non ci sia dubbio anche perché riesce a diciamo gestire il saggio tenendo bene le redini ferme nelle mani è chiaro che non è il saggio divagante alla montagna ma l'arte del saggio è come forse con mia moglie abbiamo fatto un piccolo intervento sul saggio e ci è molto colpito che nella traduzione latina che si fece del termine e se subito dopo nella generazione successiva a Montaigne fosse tentamenta quindi tentativi credo che il valore questa apertura costante di Auerbach sia anche in questa interpretazione del saggio critico ripeto tenuta a bado da cosa dalla consapevolezza del limite delle proprie competenze linguistiche ma anche col coraggio di andare un po' oltre nell'interpretazione ecco scusate grazie ancora se non entra allo schermo non ti ve scusate quello volendo sì 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 vieni ok allora no giusto un'osservazione allora io sono molto d'accordo ah Simone Genghini umile dottorando sono molto d'accordo con quanto diceva il professor Mazzoni sulla necessità della sintesi non per una questione di partigeneria diciamo ma per una mia questione personale cioè quando studio quando leggo forse per una mia forma di psicosi ho bisogno di avere sotto controllo e ho bisogno dello schema della sintesi e volevo aggiungere a quella carrellata di teorie a cui non possiamo più credere provare ad aggiungere un tentativo che è stato fatto in Italia negli anni 80 mi riferisco alle figure della ritorica di Battistini e Raimondi il cui titolo trovo già straordinario perché il sottotitolo spesso il sottotitolo è più illuminante del titolo stesso una storia letteraria cioè non si capisce bene di che stiamo parlando in realtà poi è un libro forse così adesso riflettevo forse a Webbachiano nella sua impostazione è un tentativo di canone utilizzando le forme della ritorica nel diciamo così nel quello che era l'interesse di Battistini nell'individuare la ritorica come lente privilegiata per guardare la letteratura ecco niente volevo aggiungere solo questo esempio che mi sembrava non citato accanto ad Orlando provenire tra l'altro dalla nostra tradizione in questo caso bolognese grazie qualcun altro? no nessuno? allora io ridarei la parola per l'ultimo intervento non chiamiamo la ringa perché la ringa si sa che deve durare due o tre ore e poi non va bene ti dovremmo dare due giorni per prepararla la ringa non si improvvisa però direi che chiudi tu il dibattito oddio io sono un po' troppo di parto onestamente per chiudere il dibattito il dibattito dovrebbe chiudere uno con una vocazione alla sintesi che però qui mi sembra che non c'è nessuno io sicuramente non ce l'ho cerco anche di non riaprirlo perché però diciamo allora come per lasciare delle questioni aperte intanto se la prossima volta che discutiamo di questioni così larghe si debba usare il verbo credere che io ho trovato un po' strano nella discussione di oggi cioè gli ha infuso una dimensione diciamo un pochino da crociata diciamo che mi sembra un tantino io non ho mai creduto in nessuna metodologia in nessuna teoria ho pensato che fosse una buona teoria però non è che ci ho creduto ma scusate ma voi credete nel posto ma vedi mi vuoi far chiudere a me io non sono fatto non sono fatto cioè a proposito di conoscere i limiti conosco i miei limiti e questo è un limite evidentissimo vabbè allora questioni aperte come si fa una buona sintesi ecco e questa veramente può essere una questione aperta nel senso che se ci si ritroverà tra x mesi a discutere del libro di Pascal Casanova questa è una persona che giovane e tra l'altro esclusa dall'università in una condizione con i libri con la disposizione sicuramente più biblioteche meglio fornite di quelle di Auerbach però costretta a sbarcare il lunario lavorando alla radio ha tentato un'opera di sintesi critico-letteraria ambiziosissima allora sarebbe interessante vedere se ciò che sottostà il libro di Casanova non è bello come Mimesis non c'è proprio ma non non ce ne sono di libri come Mimesis questo è un punto che io credevo l'unico consiglio che uno dà al proprio figlio voglio dire ma più di così cioè è chiaro che penso che sia un gran libro il problema è che se ha qualcosa da insegnarci passato un certo limite abbastanza e io qui allora come si può costruire una sintesi e questo secondo me è come per esempio qual è l'unità di misura per fare una sintesi bisogna scegliere l'unità di misura quello che tu Guido hai chiamato più di una volta campione ma è davvero un campione in Auerbach in Mimesis che analogie o differenze ci sono tra il modo in cui lui ha cercato di raggiungere questa sintesi e appunto Casanova nel suo libro l'altra cosa ma questa pure può restare per un'altra discussione tu dici io credo nella storia della filologia e della retorica non nel metodo basta però la storia la filologia e la retorica hanno tutte un loro metodo e anzi la storia sicuramente ha molti metodi e quello di Auerbach quello scelto è solo uno tra i tanti ed è anzi un metodo che scusa io di nuovo un metodo come dire che non è necessariamente che gli storici contemporanei non annetterebbero un grandissimo valore questo pure è un problema però io qui sto appunto sto rifacendo quello che ho fatto già due volte e non mi sembra giusto perché non posso fare delle obiezioni e poi dire no però la risposta tra un anno quando parliamo di un'altra cosa perché non mi pare proprio giusto per cui forse decidi te Simona come finire ma si può continuare a decidere allora mi sembra evidente che qui abbiamo due soluzioni o il circolo infinito perché dopo l'intervento di Franco Moretti io rito la parola a Riccardo Castellana a Guido Mazzoni e poi però Guido Mazzoni provoca perché quello è il problema Guido Castellana cerca di mediare Guido Mazzoni provoca io non posso far chiudere a Guido Mazzoni quindi la buona notizia è che mi sembra evidente che questa discussione verrà completata abbiamo un appuntamento per completare questa discussione quando verrà pubblicata l'edizione italiana della Repubblica Mondiale delle Lettere di Pascal Casanova questo mi sembra una notizia eccezionale che tutti quanti noi possiamo applaudire ed essere contenti per la promessa di Franco Moretti di tornare per discutere con noi con Guido e con Riccardo il volume di Casanova e in quell'occasione per favore ritornate tutti perché dovremmo votare a quel punto potremmo votare più comodamente Casanova contro Auerbach che meglio perché votare pro e contro i morti è brutto anche se i morti sono maschi bianchi e borghesi come indubbiamente Auerbach è in quel caso la votazione sarà più facile grazie mille a tutti e a voi che siete stati con me grazie mille a tutti grazie mille a tutti